Buongiorno, mi chiamo Battiste, siamo adesso allo spazio cucina di Casa Barilla, io mi occupo dell'organizzazione di tutto l'evento Casa Barilla e quindi questo spazio è dedicato alla degustazione della pasta all'italiana dove praticamente in Francia la gente conosce poco la pasta vera, la pasta all'italiana, quindi qua ci sono due ricette in degustazione tutto il giorno, trofie alla genovese e le mini farfalle ai pomodorini. La gente può venire a qualsiasi orario e è sempre benvenuta per condividere un momento di piacere con i amici, la famiglia, con tutti. Poi abbiamo anche altre attività che sono attività di lezioni di cucina, un'attività dedicata ai bambini con i genitori per un momento più di gioco e uno spazio dedicato alla storia della famiglia Barilla e della pasta in generale dove ci sono un po' di informazioni chiavi diciamo sulla storia della pasta. Ultima cosa, uno spazio quindi dedicato a tutta la gamma dei prodotti Barilla dove la gente può trovare anche i formati di pasta che avranno cucinato sullo spazio scuola o semplicemente mangiato allo spazio cucina. Benvenuti quindi alla Casa Barilla. I figli, con loro ci vuole fantasia e dolcezza e il modo migliore per farli diventare grandi e crescere con loro. Farfalle al sugo, pomodori da Terini, Barilla, la gioia di stare insieme.